Ci siamo! Finalmente ora! Signore e signori, grandi e vicini, a nome di tutto lo staff Gardaland, vi do il benvenuto al parco divertimento in Nero 1 d'Italia! Fra pochi minuti entrerete in un mondo di fantasia, divertimento ed avventura, dove tutto è pronto per regalarvi una giornata unica, piena di emozioni e davvero memorabile! Forza ragazzi! Facciamo vedere la nostra voglia di divertirci per inaugurare una giornata fantastica a Gardaland! Gardaland, vi do il benvenuto anche a te, alla festa più bella che c'è! La mia casa è di misteri, come mi ha raggiunto, anche più mi scelto in corso, agici in poteri, tra le muri e i paramoni! Chiudi gli occhi e vola in alto nel cielo, vola in alto nel cielo, in alto ancora più su! Libera il cuore, i tuoi sogni e vedrai che questa festa non finisce mai! Grazie a tutti! E' arrivato il momento di aprire ufficialmente il nostro fantastico parco! Tutti in posizione, pancia in dentro e petto in fuori! Tutti in posizione, pancia in dentro e petto in fuori! Tutti in posizione, pancia in dentro e petto in fuori! Siamo tutti pronti? Il conto all'arvescia è ormai a termine! Siamo pronti? Meno due! Meno due! Meno uno! Benvenuti a Gardaland! Al barco divertimenti numero uno di TAN! Meno due! 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 Meno